Un bentrovati da Nikos di Trevi Meteo. Questo mese di maggio è poco propenso agli anticicloni, difatti anche nel corso di martedì guardate questa zona blanda di bassa pressione che apporterà delle piogge con i colori blu non solo al nord ma anche molte zone del centro sud specie basso tirreno e drossale appenninica. Andiamo a vederlo con la nuvolosità, ci conferma molta variabilità di passaggio, nubi più compatte sulle regioni settentrionali con fenomeni ma poi guardate anche in risalita dal nord Africa verso il centro sud e quindi sarà una giornata molto molto dinamica e vivace dal punto di vista atmosferico. Ecco la previsione in sintesi per la giornata di martedì, piogge temporali che in giornata qua e l'anno mancheranno al nord Italia soprattutto l'angolo nord occidentale tra l'altro qui una giornata anche piuttosto fresca per il periodo ma qualche fenomeno non mancherà anche al centro sud soprattutto drossale appenninica. Tempo instabile, dettagli più precisi però come sempre sull'app di Trebi Meteo.